ciao a tutti amici del prensi studios e bentornati per un nuovo video insieme come vedete anche quest'oggi ci dedichiamo al mondo dei fumetti però quale fumetto in particolare se non uno dei fumetti preferiti dal sottoscritto ma soprattutto uno dei fumetti storici che io leggo a prescindere che sia uno dei miei preferiti quest'oggi come anticipato dal titolo qui sotto parleremo di braccati l'albo bis di zagor ovviamente già lo so molti mi diranno è ma questo è vecchio è uscito a luglio del 2023 siamo a settembre di qua e di là christian ricordati bisogna farli prima perché sennò il video non te lo vede nessuno è di qua e di là già hanno commentato hanno già straparlato tutti quanti di questo albo tu sta indietro allora premettendo il fatto che molte volte sapete io sono molto ironico scherzo su queste cose molte volte mi viene mi viene chiesto ma perché tu i video ecco durante questo mettiamo durante i video tu parli sempre di fumetti che la gente ha già letto insomma oppure numeri vecchi e non riesci mai a fare che ne so questo esce oggi il giorno stesso c'è la lettura magari la mia recensione tutto quanto semplicemente perché io ho anche una vita privata e mi piace moltissimo la mia vita privata oltre che quella social ma soprattutto perché credo che il fumetto debba essere letto con attenzione e soprattutto con molto interesse e voglia perché se io mi devo comprare il fumetto lo devo leggere solo esclusivamente perché ho bisogno di visualizzazioni e di fare il video qui già sbaglio infatti molte persone secondo me che fanno poi recensioni su youtube perdono il vero concetto di questa cosa perché dico questo perché la loro fretta di leggere ok e di trovare il coso di odio no mi devo sbrigare devo trovare l'inghippo devo trovare l'errore no io seguo diverse pagine su facebook di zagor dove c'è la gente che si diverte proprio a vedere l'errore di battitura una ripetizione e il danno del fumetto e tutto si sbrigano proprio per fare queste cose e secondo me è sbagliato anche perché comunque ti porta a non leggere con attenzione ma detto questo io ho spiegato del perché poi vabbè come avevo già detto nei video precedenti io ho passato molto tempo in questo mese di fine diciamo mese e mezzo via tra fine luglio e inizio agosto a fare il trasloco e lavorare molto infatti da dal canale mi sono mi sono un po di staccato ovviamente però ho trovato sempre modo di leggere continuare a leggere e anche questa è una cosa importante perché magari diciamo che leggo di meno quando sono presente su youtube leggo molto meno e questa cosa non mi piace perché io dico sempre anche leggendo tre fumetti al mese è comunque una lettura e questo è importante poi vabbè io leggo anche libri e altre cose però intanto aver perso comunque l'abitudine di leggere tre quattro fumetti al mese e adesso me ne trovo magari a leggere uno perché ovviamente c'ho anche altri interessi c'ho anche il lavoro molto opprimente purtroppo però ecco bene o male insomma uno deve trovare anche i giusti spazi per sé allora tanto parliamo di braccati vi ricordo che è l'albero bis del mese del 2023 ed è stato praticamente un soggetto una sceneggiatura e i disegni tutto praticamente tutto fatto da lui ovvero da raffaele della monica mentre per quanto riguarda la copertina è sempre il nostro alessandro piccinelli super mega ultra stra epico il nostro alessandro piccinelli anche qui vedo che la storia di raffaele della monica praticamente ripercorre un po lo zagor classico bisogna dire la verità è classico zagor un'avventura one shot ovvero inizia e finisce in questo albo che secondo me non è spettacolare assolutamente però questo per me è zagor c'è lo zagor che piace a tutti quello tradizionale quello che comunque è sempre pronto ovviamente alla battaglia poche chiacchiere molto ingegno è un proprio zagor vecchio stampo poi poco tempo fa insomma due mesi fa diciamo così si parlava ovviamente durante le live che zagor vivesse solo di ritorni no ne parlavamo con piero del canale di luigi maxi ex canale luigi maxi poi si parlava anche con con andrea di canno tv con con sebi di recensioni scarse che zagor presente vive di ritorni e questa cosa in parte potrebbe anche essere vera però secondo me non è così anche perché molti ritorni molti ritorni delle volte vengono pure fatti male per cui da una parte è meglio che non tornano esempio su tutti thunder man esempio su tutti ma potrei fare veramente una lista anche lunghissima anche le ultime avventure di gandrax non è che sono state proprio il top di gamma però in questo albo invece spoilerone degli spoileroni torna il nostro tonka perché dico questo perché proprio ecco con con il caro sebi parlavo in privato dice mi piacerebbe trovare un fumetto dove c'è il ritorno di tonka perché è tanto che non lo vedo nelle storie di zagor ebbene morale della favola imbraccati c'è anche tonka quindi sono molto contento di questo mi piace questa storia leggere tutta in un fiato e molto bella vincente e come detto molto vecchio vecchio stile zagoriano comincia subito un po anche un po cuba diciamo no tempo tre pagine già muoiono tre quattro persone per cui rispetto al solito zagor è un pochino più intraprendente diciamo così questo fumetto si prende un po delle briche che ecco solo uno come della monica poteva fare poteva realizzare e qui ritorniamo poi sempre al mio solito discorso qui vabbè ma lui se l'è cantata e se l'è suonata da solo però comunque in quest'albo diciamo che alla fine ci si è messo una persona super stra mega iper competente e ha fatto secondo me un lavoro molto egregio secondo me questo 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 zagor questo albo beast dell'estate 2023 per me è un sette pieno mi è piaciuta moltissimo la storia come detto anche i personaggi di contorno sono molto interessanti e la copertina non ne parliamo e poi ovviamente abbiamo abbiamo avuto anche qua il classico spirito dell'amicizia da parte di cico e tonka nei confronti di zagor la grande umanità di zagor che comunque non conoscendo minimamente questa donna decide di aiutarla nonostante non si sa chi sia non si sa che cosa stava cercando diciamo ecco questo questo nemico così importante all'inizio è tutto un po misterioso poi piano piano viene tutto raccontato per bene all'interno della storia ricordo a tutti i braccati un altro albo che segna secondo me un periodo di zagor non per niente da sottovalutare perché ci sono delle cose che magari possono essere riviste per carità però non così tanto come nel recente passato secondo me piano piano stiamo lavorando bene verso una direzione molto interessante anche perché verranno poi recensiti ovviamente più tardi quando avrò un modo di leggerli questo braccati anticipava anche le storie con il capitano nemo la storia del capitano nemo che è uscita il 2 agosto per cui il continuo dell'isola degli spettri poi abbiamo avuto il capitano nemo e poi infine ci sarà il terzo numero diciamo così dovrebbe completarsi a settembre se non ricordo male ecco se non ricordo male dovrebbe completarsi a settembre in questi tre albi molto interessanti di questa travolgente avventura di zagor con il capitano nemo ecco ragazzi bene detto questo io come al solito nelle mie recensioni cerco sempre di parlare più del del fumetto del personaggio della storia dando delle mie impressioni però ecco non voglio entrare troppo nel dettaglio perché poi magari chi non ha letto tutto quanto non voglio spoilerare detto questo zagor blaccati al bubis del 2023 al uscito a luglio fatemi sapere cosa ne pensate per me è un voto 7 poi non lo so aspetto i vostri commenti qui sotto mi raccomando che ultimamente sezione commenti un po abbandonata mi raccomando noi ci vediamo sempre qui al prossimo video del prenesse studios ciao ciao